Buongiorno amici di Ante, buongiorno e bentornati gli amici di Acquaviva, parliamo del sindaco Pierpaolo Rosetti e della sore Barbarica. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il perché? Anche perché stiamo a settembre, anche se il tempo è ancora abbastanza clemente, l'estate ce la mettiamo dietro le spalle, quindi Acquaviva è uno dei comuni, diciamo, del nostro comprensorio che hanno una vita propria per quello che riguarda le loro attività artigianali, turistiche e gastronomiche. E' giusto fare un bilancio di quest'estate e fare anche delle previsioni perché già in autunno ci si avvicina a quelle che sono i propositi invernali, a Natale. Assessore, allora, quest'estate come la possiamo archiviare? Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito. Un'estate spumeggiante quella di Acquaviva. L'amministrazione ha riconfermato quello che è il progetto ormai di questa amministrazione, appunto, che è Acquaviva di mercoledì. Quindi un contenitore di eventi, eventi che si snodano all'interno del centro storico, quindi mercatino che ormai è consolidato, food, presentazione di libri, mostre di pittura e spettacoli che di volta in volta cambiano ogni mercoledì. Quest'anno l'amministrazione ha investito su due importantissimi progetti. Il primo è quello del teatro. Abbiamo avuto cinque incontri di teatro, appunto, curati dall'Associazione Laboratorio Terra Viva. E sempre l'Associazione Laboratorio Terra Viva ha poi presentato ormai la consueta Zicagna con lo spettacolo Cani e Gatti. Un bellissimo spettacolo. Un'altra novità è stata quella della presentazione dei libri. Grazie alla collaborazione con l'Associazione I luoghi della scrittura abbiamo avuto cinque autori con relativi libri. E' stato veramente molto interessante perché intendiamo proprio investire su quello che è l'aspetto culturale. Sì, anche perché ti stoppo un attimo, so qual è il proposito di Mimmo Minuto, che dopo trent'anni vuole cercare di far partecipare i comuni limitrofi a San Mettro e Tronto. Quindi anche per cercare di dare alla persona ospite che abbiamo le particolarità oltre a San Mettro. Esatto. E devo dire che sta riscuotendo molto successo anche appunto non solo con Acquaviva ma già da anni precedenti con altri comuni. E poi abbiamo avuto un po' quello che è stato l'evento Clou dell'estate, che è stata la presenza importantissima del grande Francesco Guccini, che non ha cantato ma ha presentato il suo ultimo lavoro, il suo ultimo libro, che si chiama Canzoni, quindi una raccolta all'interno della fortezza. Devo dire una serata incredibile perché la fortezza era veramente gremita di persone. Poi, sempre parlando di quello che è stato fatto, abbiamo avuto il 9 agosto la presentazione del libro da parte del dottor Mariani, Prospettiva Rosa. Anche lì è stata una serata particolarissima perché non è stata una semplice presentazione di un libro, ma ci sono stati interventi da parte di quelli che sono un po' i personaggi particolari di Acquaviva, che si sono espressi, diciamo, artisticamente. Quindi abbiamo avuto Maria Gaetani che ha fatto un monologo tratto da un teatrale, abbiamo avuto Ilaria Pallotti che si è esibita, la ginnasta, abbiamo avuto i nostri cantanti, insomma ci sono stati tutti questi personaggi, le paiarole, abbiamo avuto chi ha dipinto, quindi una serata particolare. Il 10 agosto c'è stato l'anniversario dei vent'anni dell'Associazione Laboratorio Terra Viva, una bellissima serata con il conferimento della Crolla d'Oro, che è un premio che viene conferito a quei personaggi che hanno dato risalto al nostro borgo in qualche modo. Quest'anno tra i vari premi c'è stato quello a Maurizio Compagnoni. Il collega e compagno di Sky. Esatto. Poi tra gli eventi che ormai sono consueti c'è stato Sponsalia, come sempre 1-2-4 agosto, 4 agosto cena medievale in fortezza, sempre molto caratteristica, quindi una rievocazione storica curata, ormai sono 32 anni dall'Associazione Palio del Duca, quindi una rievocazione in abiti d'epoca. Sempre tra gli eventi che sono ormai consolidati c'è la sagra delle lumache e degli arrosticini e degli spiedini, anche questa che si è tenuta ad agosto. Novità dello scorso anno, quindi siamo alla seconda edizione, la festa della birra si è tenuta presso i giardini di Andrè della Fortezza. Sono state cinque serate veramente molto belle, abbiamo avuto due gruppi importanti fra i tanti che sono stati i Pupazzi e Vizi e Virtù. Quindi lì diciamo una situazione molto... Siamo un'estate ricchissima. Sì, assolutamente ricca. Io spero di non dimenticare nulla fra i vari... Complimenti perché ti sei ricordata tutto e non è facile. È perché li abbiamo vissuti tutti, serata per sempre. Io prima di presentarvi altre cose volevo fare una battuta anche con il primo cittadino, Pierpaolo, che ringraziamo perché di solito ci si muove... Io direi che posso andare a questo punto. No, ecco, come la pazienza dell'elefante, la testa è già posto, è tutto ok. Che ci possiamo aggiungere, Pierpaolo, anche perché ormai, vabbè, l'amministrazione è consolidata, le peculiarità di Acqua e Via sono famose, giustamente un po' il turista, però chi viene al mare sa che nel nostro introterra ci sono delle realtà che rispecchiano. Io aggiungerei un discorso più generale, visto che come ricordavi è un'amministrazione, il mio ruolo di sindaco è ormai consolidato, sono al settimo anno. Diciamo che non guardo più a un discorso di archiviazione dell'estate, è un discorso di continuità, che è quello che poi verrà fatto nell'autunno, quello che si cerca di programmare è in linea di continuità con quello che è stato fatto. nel periodo estivo, penso al teatro, penso a quello che poi Barbara potrà dire e dirà nel discorso autunnale e di Natale. Così come mi piace parlare più che di particolarità, di identità e di una crescita di interesse del turista, ma anche di persone che abitano vicino ai nostri territori, di scoprire l'identità di Acqua e Via, l'identità di questo borgo, le caratteristiche di questo centro storico e di un bene particolare, particolare perché a 7 km dal mare manifesta tutta la storia che c'è sulle colline, alle spalle del mare, alle spalle di una città importante come San Benedetto che è la fortezza medievale che da poco tempo è gestita dall'associazione Paglio del Duca su cui l'amministrazione e la stessa associazione sta investendo moltissimo in termini di fruibilità. Abbiamo ieri pubblicizzato il posizionamento di modellini tridimensionali che potranno essere utilizzati dai non vedenti. Abbiamo adesso la realtà aumentata, la realtà 3D, quindi cresce la potenzialità di questa struttura. La struttura al servizio della collettiva. Esatto, io l'ho sempre definito, mi è sempre piaciuto definirlo uno dei cuori di Acqua e Via, ma il cuore più grande, più importante, ne stiamo dando valore e vediamo i risultati, vediamo soprattutto crescere l'amore e l'interesse per questo borgo. Quindi io farei questo discorso generale, questo è il contenuto che abbiamo messo a disposizione per rendere ancora più importante la bellezza del nostro comune. Per entrare nel dettaglio, allora dopo l'escurso... No, ho dimenticato un evento importantissimo curato dall'amica Rosalba Rossi. Abbiamo avuto una mostra di pittura dell'artista Maurizio Romani, un'interessantissima mostra che si è un po' posizionata dividendosi tra il camminamento della fortezza e la splendida chiesa di San Rocco. Quindi ci ha fatto compagnia fino al 10 settembre. Parlando di quello che sarà il periodo autunnale, abbiamo il 5 ottobre l'inaugurazione del presidio Nati per Leggere all'interno del nostro centro aggregazione giovanile e da lì ripartirà poi anche il discorso del centro aggregazione giovanile curato dall'associazione anche quest'anno a piccoli passi. Quindi l'apertura pomeridiana del centro, laboratori creativi, eventi a tema nel periodo festivo. Quindi è importantissimo. Abbiamo poi il 6 ottobre, siccome Acquaviva Picena fa parte del circuito Bandiere Arancioni e ne siamo veramente molto orgogliosi, abbiamo un evento importantissimo che è l'organizzazione da parte di Bandiere Arancioni di una caccia al tesoro all'interno del centro storico. Quindi verranno posizionati, ci saranno dei punti dove verranno posizionate delle cose particolari da trovare. Quindi c'è un'iscrizione, si partecipa e ci sono insomma premi un po' per tutti. È un modo, credo, molto intelligente ed innovativo per far conoscere un po' il borgo. Diciamo di socializzazione. Esatto, esatto. Poi il 12 ottobre abbiamo il primo dei tre appuntamenti all'interno della fortezza con il falconiere. Quindi abbiamo avuto già un piccolo assaggio quest'estate e devo dire che è piaciuto tantissimo. Quindi c'è una dimostrazione di falconeria, uno spettacolo con animali annessi. Quindi potrebbero essere i lupi piuttosto che i cavalli. Quindi ci sarà questo evento il 12 ottobre, il primo di questi in fortezza. La fortezza ci si sposa bene. Si presta, si presta, è proprio lo scenario ideale. Ce ne saranno altri due di questi eventi perché l'abbiamo predisposto per l'8 dicembre e per il 6 gennaio. Abbiamo sempre quel weekend del 12-13 ottobre, sempre con bandiere arancioni. Abbiamo Gusto all'arancione. Praticamente i ristoranti di Acquaviva aderiscono attraverso un menù dedicato, quindi con un prezzo speciale per i turisti che vengono a trovarci. Abbiamo il 17 novembre, sempre con l'associazione Paleo del Duca, la giornata della storia. Quest'anno si chiama le invasioni, quindi invasioni in generale. Non sappiamo di cosa, lo scopriremo. Poi abbiamo sempre il nostro patrono San Nicolò, il 6 dicembre, quindi ci stiamo un pochino attivando per organizzare qualcosa. Per il Natale adesso è un po' prematuro dirlo perché siamo in work in progress, quindi stiamo un pochino vedendo. Anche se abbiamo già tutti la testa per l'estate prossima, quindi già ci stiamo muovendo per riorganizzarci, insomma ci vuole un certo anticipo. Non diciamo niente, perché io già so che l'assessore che salutiamo, Luca Balletta, mi ha chiesto di un personaggio che forse potrebbe venire ad Acquaviva, non facciamo mai un nostro amico, un amico storico, che ormai diciamo Marche Abruzzi sia abbastanza considerato, è abbastanza famoso, però io me lo ricordavo quando veniva al Misus 30 anni fa, con la sua 500, è come cambia la vita, però è quella persona terra terra, quello che viene proprio dal basso, che riesce a far divertire un po' tutti. Signori, io vi ringrazio, sei stata la prossima volta, se ho problemi ti prendo come assistente perché hai sponciolato una serie di cose, perché non è facile, poi le date, le cose... Eh lo so, ma le abbiamo vissute tutte sulla nostra pelle. Ecco, quindi giustamente, avendo le vissute, le ricordi tutte quante. Grazie ancora. Grazie a te Barbara, grazie Sindaco, buon lavoro. Giustamente hai fatto da supporto, poi il tuo è stato discorso abbastanza di complemento, perché ci hai aggiunto quel qualcosa che ha racchiuso, quindi lei è entrata nel dettaglio. Ho aggiunto la cornice su cui abbiamo sempre lavorato. Grazie, grazie per Paolo, buon lavoro, grazie Barbara, quindi a risentirci, sicuramente per farci gli auguri oppure cercare di essere su presenti a qualche evento senza mai lasciare nulla a caso. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi.